Attendeva gli automobilisti ignari in piazzale scuro, grande parcheggio antistante e policlinico di Borgo Roma, per poi infrangere i vetri delle macchine in sosta e rubare tutto ciò che vi trovava all'interno. Wenouch Khalid, 38enne di origine marocchina, già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti, è stato arrestato ieri sera in flagranza di reato dagli uomini della polizia. Khalid stava mettendo a segno un nuovo colpo, l'ennesimo, ma ad avvisare le volanti un cittadino cinese insospettito dal comportamento dell'uomo. Dopo aver fatto scendere la moglie, che nel frattempo si è avviata verso l'ospedale, il testimone, che si era accorto dai vetri rotti di una Fiat 500, ha atteso in macchina, vedendo il ladro infrangere quelli di un Alfa Romeo, facendo razzia di ciò che vi era all'interno. A quel punto sono intervenuti i poliziotti, che hanno tratto in arresto l'uomo. Un secondo testimone ha raccontato di aver visto poco prima Khalid rompere il finestrino anche di una Renault Chenique, parcheggiata sempre nello stesso piazzale. Da una perlustrazione successiva è risultata danneggiata anche una Opel Corsa. Residente a Bergamo, il pregiudicato era gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione quotidiana presso la caserma dei carabinieri di Stezzano. Oggi, all'esito della direttissima, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.